Ehi Arnold! Oh! Stai insegnando i comandi a Spot! Bene! Il modo migliore per insegnare qualcosa è mostrare con il tuo esempio! Ehi Arnold! Arnold! Oh no! Ups! Abbiamo un piccolo problema! Arnold non avere paura! Ma sei sepolto vivo! Proprio come Rodrigo Cortez! Aha! Smettila di urlare! Urlare aumenta il panico, il battito cardiaco e di conseguenza la quantità! di aria che usi e hai un massimo di due ore di respirazione nella bara finché non esaurisci l'ossigeno! Arnold! Il tuo telefono! Sei profondo solo due metri! Evviva! C'è una linea di connessione! Chiama i tuoi cari! Ti salveranno! Ma questo non è certo! Perché per loro sei morto! Probabilmente penseranno che la tua chiamata sia lo stupido scherzo di qualcuno! Prova a connetterti a internet! Il tuo post sarà visto di sicuro! Ma solo dopo che a loro piace un gattino in costume divertente! Un nuovo post di Ariana Grande e una patata dalla forma divertente! Ce l'ho! I post con tag geografici ottengono il 79% di coinvolgimento in più e un post che dice che il petrolio è stato trovato attirerà al 100% l'attenzione di Donald Trump! In situazioni critiche gli istinti animali di una persona si svegliano! Beh, mi aspettavo che si sarebbe svegliato in te! Arnold! Quando manca l'ossigeno le persone spesso hanno allucinazioni! Forse possiamo googleare cosa fare? Non martellare un chiodo nella tua vita come se fosse il coperchio di una bara! Esci dalla tua zona di confort! Non vi è alcun modo! Ok! Kill Bill 2! Fallo come Uma Thurman! Devi fare un buco nel coperchio! Sii forte nello spirito! Raccogli tutta la tua rabbia come Naruto! E... ti ha fatto male? Devi in qualche modo rompere il coperchio! Guarda se hai qualcosa in tasca! Arnold, cos'è quello? Ok! Facciamo una pausa! Non ti serviranno nemmeno fuori dalla bara! Oh! Va bene! Sfondamento! Colpire! È come se stessi cercando di scappare da un brandello, dai fascisti o dalle canzoni lamentose di Billie Eilish! Ce l'hai fatta! Ora devi comprimere tutto lo sporco nella bara per liberare la tua via d'uscita! Devi sollevare la maglietta in modo che possa essere legata sopra la tua testa! In questo modo non soffocherai per la sporcizia che ti cade in testa! Arnold! Arnold! Svegliati! Di nuovo allucinazioni! È molto più facile per una persona uscire da una profondità se è uguale o inferiore alla sua altezza! Ma dato che abbiamo due metri, dovresti provare a strisciare come un verme! Arnold, è rimasto ben poco! Congratulazioni! Sei vivo! Ci hai spaventato! Non morire di nuovo così! Spero tu stia bene! Come va la pressione sanguigna? Perché il secondo trasferimento di teletrasporto non aspetterà per sempre, vecchio mio! Oggi diventerai uno dei pochi che hanno visitato la superficie di un lago di lava e l'unico a uscirne vivo! Sebbene tutte le scommesse siano contro di te, Arnie! Bene, allora... 3, 2, 1... Apri gli occhi o ti perderai tutto! Hai solo un nanosecondo! Sei in Africa, a 613 metri sul livello del mare! Nella bocca del vulcano ribollente, Ertha Ale! Impressionante, no? La temperatura dell'aria sulle superficie del lago di fuoco raggiunge i 2200 gradi Fahrenheit, che è abbastanza calda da sciogliere la ghisa! Ehi, rilassati Arnold! In un nanosecondo non succederà nulla, nemmeno con te! Voglio dire, se sei davvero senza fortuna e stai lì più a lungo, i tuoi polmoni bruceranno al tuo primo respiro, la tua pelle si staccherà e l'unica azione sensata sarà di immergersi completamente nella lava! Così che si sviene a causa di uno shock di dolore e dentro 90 secondi ci si sveglia in un posto migliore! Di sicuro una prospettiva non incoraggiante, eh? Quindi reggiti, amico, e... Arnold, togli il dito dalla lava! Oh, grande! E adesso, Arnie? Vuoi che ti teletrasporti sulla vetta per goderti il panorama? Hai sentito anche quel suono? Arnie, esci da lì! La velocità di questo flusso infuocato è di un milio all'ora! Ehi, ma fa in serio? E tu volevi andare alla Hawaii in vacanza? Se c'è un'eruzione lì, non sarai in grado di superare il flusso di lava nemmeno in sella ad un overboard! Bene, finalmente una spolverata di qualcosa di utile da parte tua, Arnold! I tuoi trucchi fanno proprio schifo! Se vuoi essere popolare, devi distinguerti! Che ne dici di una vera magia? Ad esempio, il mago Harry Udini è uscito dall'essere sepolto vivo con le mani legate! Penso che tu sappia dove voglio arrivare, Arnie! Oggi ti seppelliremo vivo, per la terza volta! E poiché le persone ti hanno già visto eseguire questo trucco un sacco di volte, questa volta lo farai in un modo speciale! Ti ammanetteremo e la bara sarà fatta di metallo! Ok, Arnie amico! Pronto? Entra! Durante le sepolture passate hai già imparato la regola più importante! Devi respirare con calma e profondamente per conservare il tuo ossigeno! Va bene, ora smettila di essere calmo! Dobbiamo toglierci le manette! È semplice! Basta rompere un dito di ciascuna mano per poter passare i polsini! Piantala con il mal di pancia, Arnie! Ti sono rimaste ancora due dita! Usa la cintura o l'orologio per provare ad aprire il coperchio! Una bara di metallo ha punti deboli lungo tutti i bordi! Dai Arnie, stavo scherzando! Non puoi rompere il metallo, idiota! Ci sono due metri di terra sopra di te, che premono con una massa di quasi due tonnellate e mezzo! Quindi questa terza sepoltura sarà probabilmente l'ultima! Arnie! Arnie! Arnie, dove sei? Oh, bastardello! Sì, sei davvero Arnie Udini! Allo stesso modo, Harry Udini si arrampicò attraverso uno scompartimento segreto nella parete laterale della bara e in un tunnel e poi, attraverso un portello nella tomba, si lasciò cadere sulla bara dall'alto e si coprì con uno strato di terra di mezzo metro! Ma dov'è il portello, Arnie? Sorpresa! Non pensavi davvero che ti avrei fatto uscire così facilmente, vero? Nuota, Arnold! Prima che il cemento si indurisca! Oh, sì! Ho dimenticato di dirtelo! Il cemento ha presa rapida quando interagisce con l'acqua, forma delle molecole alcaline e poiché c'è molta umidità nella pelle, allora, beh, farà abbastanza male! Congratulazioni, Arnold! Ce l'hai fatta! Sei riuscito ad attirare l'attenzione su di te! Goditi la gloria! Come ti piace l'Australia, Arnold? Non muoverti! Sembra che sia un taipan dell'entroterra! È idiota! Questo è il serpente di terra più velenoso sulla terra! Il veleno del taipan è 180 volte più tossico di quello di un cobra! Una goccia delle dimensioni di una focchia di uno spillo può uccidere 1000 ratti e 44 milligrammi di questo veleno che il serpente inietta in un solo morso! Possono uccidere oltre 100 Arnold's! Correre è inutile! Il taipan non scivola via dopo il primo morso come gli altri serpenti, ma continua con una serie di attacchi super precisi, fulminei, per finire la vittima! Queste zanne lunghe 13 mm hanno appena iniettato una potente emotossina nel sangue che ne impedisce la coagulazione. Questo porta a emorragie interne, perdi il controllo del tuo corpo, i tuoi arti smettono di obbedire, la respirazione diventa difficile e subito dopo iniziano le convulsioni. Oh, non preoccuparti Arnold, quello non è sangue, questa è l'urina! Le tue cellule muscolari iniziano letteralmente a dissolversi e ad uscire dai reni. A causa di ciò la tua urina diventa rossa. Se non prendi un antidoto entro 30 minuti, per le prossime 8 ore, durante ciò che resta della tua vita senza valore, proverai un dolore infernale che ti farà implorare di finire prima. La prima parte della simulazione è completa. E ancora un respiro! Ben fatto! Hai inalato esattamente 2,5 grammi di mercurio. Puoi trovare tanto in due termometri a mercurio se respiri il loro mercurio evaporato quando inali, proprio come hai fatto adesso. Oppure se riempi una piccola stanza di termometri e li calpesti a fondo. Impiegherai circa un'ora e 250.000 termometri per respirare la stessa dose di mercurio. E muori! Anche questo è mercurio, buco nell'acqua. Se bevi un bicchiere di normale mercurio, il massimo che può accadere è che potresti avere un forte mal di stomaco e diarrea, ma se il mercurio è finemente frammentato, morirai dolorante. Quando ingerite, minuscole goccioline formano sali solubili pericolosi. La tua temperatura corporea sale a 40 gradi Celsius, inizia a tremare e il petto e lo stomaco iniziano a squarciarsi per il dolore. Inoltre non dimenticare di aggiungere al mix salivazione estrema, vomito e diarrea. Se non pompiamo il tuo stomaco immediatamente, la morte arriverà dopo 10-30 giorni terribilmente dolorosi. Sì, la seconda parte della simulazione. Un virus si è intrufolato in qualche modo. Non muoverti, Arnold. Non fare una mossa. Ups! Va tutto bene, Arnie. Per prima cosa devi capire cosa c'è che non va. Quindi esci dalla cabina. Esci! Sì, ci sono tre cavi che reggono l'ascensore e il problema è chiaramente che non li stai reggendo. Anche se un singolo cavo è abbastanza forte da supportare il peso di quattro mucche, tre orsi polari o un ipopotamo. La probabilità che tutti e tre i cavi si rompano contemporaneamente è praticamente zero. Sembra che stiamo avendo problemi con il motore. Stai indietro, Arnold, altrimenti prenderai fuoco. I cavi metallici con un contrappeso attaccato sono collegati alla cabina dell'ascensore. Quando il motore si attiva, l'ascensore sale o scende. Sembra che la tua cabina sia già trattenuta dal primo freno. Questo freno si trova all'interno del motore e immediatamente si blocca sul cavo al minimo segno di rottura. Non farti prendere dal panico, Arnie. Abbiamo ancora un freno. Freno di sicurezza. Laggiù, sotto la cabina. Se la velocità dell'ascensore aumenta, il freno di sicurezza si blocca e l'ascensore si arresta. Il pericolo è passato. Arnold, penso che tu sia stato maledetto. Ho un'idea. Preparati a cadere! Arnold, stai minando la reputazione del nostro canale scientifico. Solo perché sei senza peso non significa che puoi scappare saltando. Se al tuo posto ci fosse qualche persona più atletica, forse potrebbe saltare. Ma poi la sua testa si sarebbe schiantata contro il tetto dell'ascensore. Dicono che puoi sdraiarti sul pavimento, diffondendo la forza dell'impatto su tutto il corpo. Purtroppo questo atterraggio non sarà così morbido. L'impatto con il fondo a una velocità di oltre 60 km all'ora non farà altro che rottami di ferro dell'ascensore. Ora immagina cosa farà il tuo corpo nello stesso ascensore. Pensavi che ti avrei lasciato morire così facilmente. Addio baby 94. E che 94 potrebbe non essere il suo anno di nascita. Potrebbe essere il suo peso in chilogrammi. Andiamo a casa amico mio. Bene Arnie, non è davvero un problema vivere per molto tempo. Ricerche recenti promettono che i medicinali che curano l'invecchiamento sono proprio dietro l'angolo. Andiamo avanti nel gioco e ti impediremo di invecchiare in questo momento. Sei pronto a vivere per mille anni. Prima una piccola emiezione. Quindi parliamo prima di ciò che dovresti offrire all'umanità con questa vita di mille anni. Niente. Tranne 230 kg di pelle che il tuo corpo cresce continuamente e che alla fine potrebbe coprire un campo da calcio e mezzo. E poi ci sono tutti i capelli che cresceranno, la cui lunghezza sarà uguale all'altezza di 10 statue della libertà. Questo è, forse, il meglio che potresti offrire. Ma non preoccuparti, c'è un altro vantaggio. Negli ultimi 100 anni, l'altezza media della persona è aumentata di 8 cm, il che è principalmente spiegato dai progressi della medicina. Quindi, se continuassi a crescere per tutta la vita, alla fine dell'esperimento saresti alto 80 cm. Bene, ora sei davvero una creatura completamente ridicola. Ma no, anche per te Arnie è troppo. Gran parte della complessità della longevità risiede nell'incapacità degli organi di resistere agli oneri di funzionamento per più di 100-200 anni. Le articolazioni alla fine inizierebbero a rompersi sotto il loro stesso peso e stress. Fortunatamente appariranno sulla scena organi robotici. Ecco, va meglio. Ma è possibile sostituire tutte le varie parti di un corpo? Sfortunatamente no. Ci sono dei limiti nel tuo cervello, ovviamente. La memoria di Arnold è in grado di contenere 2,5 petabyte di informazioni. Ciò equivale al contenuto di tutte le foto su Facebook più 20 milioni di scatole di archivio piene di documenti. Potrebbe sembrare un numero enorme, ma alla fine, tra 300 anni, la tua memoria sarebbe piena. Poiché Arnie diventerà la persona più anziana del pianeta, presto diventerà famoso, ma non sarà in grado di mettere insieme due parole a causa della sua piena memoria. Quindi il tuo corpo non è davvero destinato a una vita così lunga, Arnie. Sai qual è la cosa migliore che puoi fare per l'umanità? Svezzarli tu stesso. Rilassati. Sei nel mezzo dell'oceano senza che nessuno ti disturbi. Non c'è un'anima in un raggio di nemmeno centinaia di chilometri. Non piangere. Ti aiuterò a sopravvivere, idiota. Ascolta attentamente e ricorda tutto ciò che ti dico. Prima di tutto, è assolutamente necessario trovare acqua potabile pulita. Il modo più semplice è leccare le gocce di rugiada che si raccolgono sulla zattera. Non Coello, Arnie. Quella è la cacca degli uccelli. Purtroppo il numero di tali gocce di rugiada è troppo piccolo per sopravvivere a lungo. Un modo più difficile è trovare una sorta di serbatoio per raccogliere l'acqua piovana. Ma potresti morire prima che piova. Quindi passiamo al terzo metodo. È il più difficile. Arnold è troppo stupido per riuscirci. Ma tu, caro pubblico, ascolta. Da due contenitori, una borsa e un peso, puoi costruire un distillatore d'acqua. Metti l'acqua dell'oceano salata nel contenitore più grande ed evaporerà raccogliendosi al centro della borsa e gocciolando nel contenitore più piccolo. Et voilà! La tua acqua potabile appena distillata è pronta. Arnie, è ora di andare a pescare. Mangia tutto ciò che catturi che non sembri velenoso. Alghe, plankton, meduse e persino piccoli pesci possono essere catturati con una semplice maglietta. Sì, potrebbe avere un sapore di merda, Arnie. Ma chi diavolo sei per lamentarti? Non ti consiglio di guardare l'oceano troppo a lungo. I raggi del sole si riflettono sulla sua superficie e ti bruciano gli occhi. Non vedrai più il mondo, ma il mondo ti vedrà ancora. È meglio il tuo mio. Arnie, dovresti costruire un baldacchino sopra la zattera per proteggerti dai raggi UV. Lo shock termico in mare aperto è la morte garantita. Ma, tuttavia, sta arrivando una tempesta molto prima che il sole possa persino iniziare a minacciarti. Per evitare che la zattera si rilassi, metti tutti gli oggetti pesati al centro e prega Poseidone per la sua pietà. Congratulazioni, sei sopravvissuto la tempesta, ma ancora rimane il problema di trovare Terra. Sai, ho dimenticato di dirtelo, Arnie. Sei nel punto più lontano dalla Terra, nell'intero oceano mondiale, Point Nemo. L'insediamento umano più vicino si trova a 400 chilometri di distanza, quasi presso la Stazione Spaziale Internazionale. Sapevi che nel mondo ci sono 15.000 testate nucleari con una capacità combinata di circa 7.500 megatoni. Probabilmente dovresti anche sapere che cinque minuti fa ne ho inviato uno nella tua direzione. Non ha senso colpire il gas, Arnold. L'onda di impulso elettromagnetico ha ucciso tutta l'elettronica. Le auto moderne ne sono così piene. Successivamente verrai colpito dall'onda d'urto. Anche se questo vecchio secchio arrugginito era fatto di grafene solido, che a livello atomico è ancora più forte del diamante, e in qualche modo sei sopravvissuto miracolosamente a tutta questa distruzione? Continuerai a vivere all'inferno. Sveglia il tuo culetto, Arnold. Dobbiamo controllare quanto sei lontano dall'epicentro dell'esplosione. Ricorda, se vedi una nuvola a forma di fungo, tendi la mano in quella direzione e alza il pollice. Se la nuvola è più grande del pollice, allora ti trovi nella zona radioattiva. Che ragazzo fortunato, hai la crema solare? Non ti aiuterà, stupidino. Sto scherzando. Dovresti scappare da qui, veloce. Gli isotopi radioattivi in piccole quantità hanno già iniziato a distruggere lentamente il tuo DNA. Come ti senti, amico mio? Sì, è vero, è un buon momento per una doccia. Evitare il contatto con oggetti contaminati e l'uso di speciali procedure idriche può aumentare le possibilità di sopravvivenza. Fai un filtro per l'acqua, Arnold. Anche le radiazioni più deboli causeranno tumori progressivamente maligni. Congratulazioni. Hai superato un attacco nucleare e non hai più bisogno di un costume di Halloween. Ma questa non è la fine. Se qualcuno nel mondo lancia un missile con una testata nucleare, seguirà l'effetto domino. Tutte le potenze nucleari del mondo scateneranno i loro cani da guerra. Poi arriva la vera apocalisse, Arnold. È probabile che l'era dell'umanità finisca. Morirai, amico mio. È tempo di uscire da questo universo. Un bel giorno che non ha causato alcun disastro. Arnold è stato rinchiuso in un ipermercato fino alla fine dei suoi giorni. Puoi chiedere perché? E la risposta è... solo perché... volevo semplicemente rinchiuderlo in un ipermercato. Qui puoi mangiare caramelle e barrette di cioccolato tutto il giorno e puoi andare in giro nel negozio in un carrello. A vostra disposizione sono beni per lo svago, lo sport, i vestiti e persino le medicine. In media in un ipermercato ci sono 120.000 prodotti diversi che ti offriranno 50 anni di vita spensierata. Ma sfortunatamente senza elettricità, gran parte di questi beni si rovinerà il giorno successivo. A temperatura ambiente, l'intera tonnellata di latte presente nel negozio sparirà in sole 18 ore. Pollo, maiale e manzo freschi andranno tutti a male in un giorno. Torte e pasticcini dureranno un po' di più. Forse 36 ore, se sei fortunato. Potresti provare a preparare. Potresti salare il pesce e mettere il pane sotto vuoto. Quindi la loro durata sarà prolungata di anni. Ma ehi, cogli l'attimo giusto Arnold? Dopo una settimana anche frutta e verdura andranno a male e dovrai passare i cereali. Ma anche solo la loro preparazione. Esaurirà la fornitura limitata di acqua che potresti bere per almeno 10 anni. Potresti provare ad estenderlo, filtrandolo attraverso il carbone dal dipartimento del giardinaggio e poi pulendolo con l'argento. Ok, quindi, d'ora in poi, il tuo solo pasto sarà cibo in scatola. Lo stufato di manzo può durare quasi indefinitivamente se l'imballaggio non è danneggiato. E i cetrioli e i pomodori in salamoglia possono essere un'ulteriore fonte d'acqua. Quindi, le tre tonnellate di prodotti in scatola che si trovano nel negozio ti dureranno per otto anni. E quindi, l'ultima fonte di cibo rimasta sarà. Molte cose possono essere usate per altri scopi. Ad esempio, puoi pulirti il sederino con qualsiasi tipo di carta. Devi solo accartocciarlo a fondo e... beh, usarlo. Proprio come hanno fatto le nostre bisnonne. Ha deciso di visitare sua zia di 200 chili che è appena uscita di prigione. Sei sorpreso di essere l'unico passeggero a bordo? Questo Boeing 767 appartiene alla compagnia aerea più pericolosa del mondo. Subito dopo la fondazione della compagnia nel 2003, uno dei suoi aerei è uscito di pista durante l'atterraggio. I passeggeri hanno subito molte ferite, ma fortunatamente sono sopravvissute. Quindi, ancora una volta, dopo qualche tempo, uno dei suoi aerei è scomparso dal radar mezz'ora prima dell'atterraggio. Dopo due giorni di ricerche, è stato trovato, si schiantò contro una montagna e su 104 persone a bordo sono sopravvissuti solo i microbi. Regola numero uno su un aereo. Allaccia sempre le cinture di segrezza. La densità dell'aria è in continua evoluzione. Imagina questo, è estate. Stai sorvolando un campo con una brezza calda che soffia sull'aereo. Poi improvvisamente il campo finisce e inizia a volare sopra un lago freddo. I venti caldi smettono improvvisamente di influenzare l'aereo e inizia ad andare. La turbolenza scuoterà semplicemente l'aereo e può tirarlo di tre metri. E tutto ciò sta accadendo a una velocità di 800 chilometri all'ora. E se non si è allacciati durante un carico improvviso di 2G, sei spacciato. Ogni singola collisione con il tuo sedile o l'aereo ti spezzerà le costole, torcerà le braccia, spezzerà il cranio e poi il gas raro che vola fuori dal motore attira i fulmini più fortemente di qualsiasi cosa sulla terra. Ma la cosa più interessante è che i grandi aerei spesso creano da soli i fulmini. Dalla coda una scarica elettrica di centinaia di migliaia di watts si estende tra le nuvole e dal naso nel terreno. Un fulmine può rompere il parabrezza e disabilitare tutta l'elettronica di bordo. Aspetta Arnold, l'atterraggio sarà peggio delle stoppie sul culetto su... Oh mio Dio Arnold! Sembra che la vedrai per l'ultima volta. Al tonnerale. Penso che conosciate tutti questo rosso abbastanza bene. Dai, finisci il tuo burrito e andiamo al garage. Ti mostrerò il mio nuovo dispositivo per rimpicciolire le persone. Oh, hai lasciato cadere il tuo burrito? Arnold, lo mangerai sul serio? Ok, la regola dei 5 secondi dice che puoi mangiare cibo caduto se non rimane sul pavimento per più di 5 secondi. Ma non lo farei. Arnold, cosa c'è che non va? Ti fa male la pancia? Questa è l'occasione perfetta per testare il mio ridimensionatore quantistico e scoprire dall'interno cosa ti fa male. Indossa questo casco e collegherò la tua coscienza alla tua nanocopia e ti inserirò nel tuo corpo. Ma prima togliti le mutande. È il modo più veloce per arrivare a destinazione. E andiamo! Hai mangiato un burrito che conteneva le uova di alcuni vermi molto intelligenti. Arnold, guarda qui. Hanno costruito un'intera metropoli dentro di te. Hanno persino costruito uno zoo. Diamo un'occhiata allo zoo. Oggi è lunedì, quindi c'è uno sconto del 50%. Mio Dio! Questo è uno zoo di virus e batteri patogeni. Ammiro i tuoi intrusi. Influenza spagnola, peste, ebola, tubercolosi, influenza suina e aviaria, tifo, vaiolo e un mucchio di altri patogeni rari, tutti in un unico posto. Guarda, c'è anche il mio preferito, il boronavirus. Poco studiato, conosciuto anche come malattia del cavallo triste. Colpisce principalmente cavalli, pecore, mucche, conigli e altri animali. Arnold, non metterei le dita nella gabbia se fossi in te. Si sospetta che l'infezione provochi la schizofrenia. Arnold, purtroppo ti fa male lo stomaco a causa dei parassiti. Guarda, stanno costruendo un'autostrada nel tuo intestino, un parco acquatico nella tua vescica e stanno anche cercando di ottenere minerali dal tuo fegato. Se costruiscono un data center nella tua testa, molto probabilmente darai un calcio al secchio, perché la tua testa è così piccola. Devi capire come espellerli dal tuo corpo. Prima è, meglio è, se apri tutte le celle di questo zoo di Pandora, molto probabilmente ti aiuterà a espellere i vermi. Andiamo Arnold. Vai avanti, è meglio tossire per un paio di giorni di ebola che vivere con questi vermi dentro di te. Congratulazioni Arnold per l'eroico esilio dei parassiti. Ecco una medaglia per il tuo coraggio. Spero che il tuo sistema immunitario possa far fronte a un tale cumulo di malattie. Essendo un astronauta esperto, gli è stato affidato il compito di consegnare rifornimenti freschi di cibo e vestiti alla Stazione Spaziale Internazionale, Arnold. Smetti di mangiare il cibo preparato per l'equipaggio. Che cosa hai lì? Non dirmelo. È un burrito fatto in casa. L'hai fatto per gli astronauti. Il razzo si è ancorato con successo alla SSI. Preparati. Per aprire la porta è necessario fare clic sul pulsante verde. In 3, 2, 1. Tasto verde, Arnold. Verde! Dubito che qualcuno degli astronauti si precipiterà in tuo aiuto dopo averli lasciati senza cibo. Hai abbastanza aria per 8 ore. In qualche modo durante questo periodo devi arrivare alla SSI da solo. Scuotere il tuo corpo non produrrà alcun risultato. Anche se corri come Sonic, il tuo corpo rimarrà in un solo posto. Quindi, ecco alcune opzioni reali per muoversi nello spazio. La prima opzione è usare l'aria proveniente dalla bombola di ossigeno. L'aria si muove attraverso i suoi tubi ad una velocità di 50 km al secondo. Questo tipo di energia, in soli 60 secondi, potrebbe trasportarti fino a 3 km. Ma ciò ridurrà in modo significativo la fornitura d'aria. Passiamo quindi alla seconda opzione. Il burrito. Lo hai avvolto in carta stagnola. Ed è un riflettore eccellente. Se fai una vela con la lamina, le particelle di luce che si riflettono su di essa trasmetteranno il loro slancio alla lamina e quindi ti spingeranno attraverso lo spazio. Non hai sentito nulla di quello che ho detto su una vela? Figlio di uno schmack. Oh, potremmo usare anche quello. I gas escono dal corpo umano ad una velocità di 3 metri al secondo e possono riempire un intero pallone in un giorno. Devi solo pensare a un modo per fargli uscire. Arnold, cosa stai facendo? Quanti burrito sei mangiato? Ne è rimasto solo un po'. Allungare. Ehi! Allungare! Ehi! ricordi lo show Amore, Morte e Robo? Dovrai strapparti la mano. Ok. Ho solo il tuo dito. Dai, ti restano solo 3 metri. Stacca una parte della tuta e lanciala nella direzione opposta. Questo cosa abbiamo qui? Elon Musk ha lanciato un nuovo razzo nello spazio e lo spazio ha lanciato un meteorite contro Elon Musk. Arnold, rilassati. Non sai nemmeno cos'è un meteorite. Un meteorite è un grande corpo celeste di origine cosmica. La loro massa varia da pochi grammi a migliaia di tonnellate. E niente paura. C'è solo un caso di un meteorite che ha colpito una persona nella storia nel 1954. E anche allora ha colpito qualcuno alla gamba. Sembra che qualcuno si stia offrendo volontario per salvare il pianeta e sta solo scoppiando di entusiasmo. Sembra che questo episodio sarà il più breve di sempre e avrà un lieto fine. Ah, no, non importa. Stesso vecchio, stesso vecchio. Sembra che il nostro pianeta stia per essere distrutto. O forse c'è un altro salvatore. Potrebbe essere Arnold. Eccellente! Sceglieremo un vestito per te. Quindi questo è un... no, decisamente non questo. No! Ora questo. Questo è quello di cui hai bisogno. Anche se potremmo semplicemente copiare ciò che ha fatto il progetto DART di SpaceX. Si prevede che nel 2022 un veicolo spaziale del peso di 500 kg si schianterà contro un asteroide chiamato Didymos a una velocità di 6 km al secondo. Il pilota automatico non è stato ancora installato, quindi dovrai volare manualmente e diventare un eroe. Oh, wow Arnold! Sei sopravvissuto! Praticamente come tutte le altre forme di vita inferiori. Come i microbi! Ma ora c'è un piccolo problema con l'acqua. Dopo che una meteora di 100 km di diametro ha colpito la Terra, l'onda d'urto ha distrutto quasi tutta la vita entro un raggio di 100 milioni di chilometri quadrati. C'è stato un enorme rilascio di zolfo e la polvere e la cenere di tutta la distruzione salirono nell'atmosfera superiore e bloccarono l'accesso ai raggi del Sole. Tu devi essere affamato. È un bene che tu abbia tenuto il tuo cibo spaziale nel razzo. Non c'era cibo? È terribile! Perché non c'è più cibo sulla Terra. È positivo che tu indossi una tuta spaziale, dato che fuori ci sono meno 50 gradi e non vuoi camminare qui per molto tempo. Attento! Ho dimenticato di aggiungere che sono sopravvissuti anche gli scarafaggi e sono mutati solo un pochino. Faresti meglio a correre verso l'infinito e oltre!